Marco è passato poco più di un mese dalla tua firma col Monza, ci sono stati i primi giorni di allenamenti qui a Ronzone con Mr. Stroppa, quali sono le tue sensazioni? Direi sensazioni ottime, abbiamo iniziato subito a lavorare forte e non vedo l'ora di iniziare al più presto la stagione. Com'è stato ritrovare il dottor Gagliani, Silvio Berlusconi, anche se non l'ho ancora visto, dopo la tua esperienza di qualche anno fa nel Milan? Beh è un onore per me far parte del Monza, poi con persone che hanno fatto la storia del calcio italiano e anche del mondo. L'anno scorso alla Virtus Entella in Serie B hai giocato tanto ma per la salvezza, quest'anno cambia completamente l'obiettivo, il Monza lotta per la promozione in Serie A, come vivi questo cambio diciamo di mentalità e se senti magari un po' di pressione? Beh l'asticella si è alzata ma è giusto così, è molto più stimolante e speriamo appunto di guadagnarci la promozione, faremo di tutto, daremo il massimo. Sono arrivati altri centrocampisti, sia tu Unis, Valotti, c'è tanta concorrenza, tu cosa puoi dare al centrocampo del Monza, che tipo di giocatore sei? Ma certo, siamo tutti ottimi giocatori, io sono un centrocampista che può giocare sia davanti alla difesa che da mezzala, preferibilmente mezzala, e cerco di abbinare le mie qualità fisiche a quelle tecniche, sperando di dare una mano importante alla squadra. C'è un giocatore a cui ti ispiri magari dell'Italia fresca campione d'Europa? Beh, diciamo che tutti i giocatori, soprattutto i centrocampisti dell'Italia, campioni d'Europa, sono dei campioni, quindi cerco di rubare qualsiasi cosa da ognuno di loro.